ciao chi sei? sono francesca! ciao francesca come stai? benissimo e tu? io bene grazie volevo dirti una cosa del cuore mamma che moccione! che carina! grazie! ciao coglione! ma vai a cagare va difficilmente segni anche il nome sta scema! io non lo so qual è! ah su chiudi un attimo chiudi! ma io non lo so ecco questo è il classico esempio di testa di cazzo che adesso col numero col numero che tra l'altro ce l'abbiamo su uno screen cioè io dico allora questa questa mi viene a dire cosa che non è coglione ma cogliona guarda io non dico niente non dico mi lascio scivolare però voi testimoni testimoni della poveracitudine di questa ragazza qua aspetta io ho dovuto chiudere un attimo ho dovuto spegnere un attimo wifi perché quella rabbia un attimo che ho in corpo vabbè non voglio dire niente perché io sono più superiore e voglio dare spazio a voi che siete i nostri fan procediamo dai lasciamo perdere ma cosa ti fa capire quanto sia sfigata questa per fare una cosa del genere la frustrazione cioè ma poi la convinzione di dire... ma adesso andate a quattro sfigati come l'è dire uh gli ho detto coglione vantati perché quello della vita è solo quello che ha pier carmine masila non ti dispiacere perché guarda non non pensare che ci sia rimasto male perché buono non mi posso neanche esprimere con certa gente comunque ragazzi andiamo avanti quelle chiamate perché giustamente non è che posso bloccare per una persona come feci già in passato al giallo non bloccare i messaggi